andavo in italia attraversando la corsica presi a nizza il bastimento per bastia e dopo la partenza notai seduta sul ponte una giovane donna carina abbastanza modesta che guardava lontano dissi tra me to ecco di che occupare la mia attraversata mi accomodai di fronte a lei la guardai chiedendomi tutto quello che uno si deve domandare quando incontra una donna sconosciuta che lo interessa la condizione l'età il carattere poi da quello che si vede si indovina quello che non si vede si fruga con l'occhio e col pensiero quello che c'è sotto la camicetta e sotto la gonna si nota la lunghezza del busto quando è seduta si cerca di intravedere le caviglie si nota la mano che rivela la finezza delle giunture si osserva l'occhio che palesa l'origine meglio di qualunque atto di nascita sempre contestabile chi si sforza di sentirla parlare per capire il suo carattere e le tendenze del cuore dall'intonazione il timbro e le sfumature della voce rivelano a un osservatore tutti i misteri dell'anima poiché l'accordo tra il pensiero e l'organo che le esprime è sempre perfetto benché difficile ad afferrare osservavo attentamente la mia vicina sfruttando il viso analizzando i gesti aspettando rivelazioni da ogni movimento lei aprì una valigetta e ne prese un giornale mi stropicciai le mani dimmi quel che lezzi e ti dirò quel che pensi la giovane donna cominciò dall'articolo di fondo con un'aria contenta e ghiotta mi saltò agli occhi il titolo del giornale le code parì rimasi perplesso leggeva un articolo di sciol diavolo era una sciollista una sciollista sorrideva le piaceva un'arguzia un po' libera una sciollista sì vuol dire che ama lo spirito francese la finezza il sale e anche il pepe benone pensai vediamo la controprova andai a sedermi accanto a lei e mi mise a leggere con non minore attenzione un volume di poesie che avevo comprato prima di partire la canzone d'amore di felix frank notai che la mia vicina aveva accolto il titolo sulla copertina con un rapido sguardo come un uccello coglie una mosca volando parecchi viaggiatori passavano davanti a noi per guardarla ma pareva che lei non pensasse che al suo articolo quando l'ebbe finito posò il giornale in mezzo a noi la salutai e le dissi mi permette signora di dare un'occhiata al giornale certamente signore posso offrirvi intanto questo volume di versi ma sì signore è divertente fui un po turbato da questa domanda non si domanda mai se una raccolta di versi e divertente risposi è ancor meglio bello delicato e pieno d'arte datemelo allora lei prese il libro la pria e si mise a leggerlo con un'aria sorpresa che rivelava la scarsa consuetudine a leggere versi in certi momenti sembrava commossa qualche volta sorrideva ma non col sorriso con cui leggeva il suo giornale a un tratto le chiesi vi piace sì ma io preferisco le cose allegre molto allegre non sono una sentimentale e incominciamo a chiacchierare seppi che era la moglie d'un capitano dei dragoni di guarnigione ad ajaccio e che andava a raggiungerlo in pochi minuti indovinai che non amava troppo il marito l'amava ma con riserve come si ama un uomo che ha deluso le speranze fatte nascere durante il fidanzamento il marito l'aveva condotta di guarnigione in guarnigione attraverso una serie di cittadine tristi così tristi ora la chiamava in quell'isola che doveva essere assai lugubre no la vita non è allegra per tutti e l'avrebbe preferito stare ancora presso i genitori a Lione poiché a Lione conosceva tutti ma ora bisognava andare in Corsica il ministro in verità non era cortese con suo marito tuttavia lui aveva un buono stato di servizio domandai vi piace Parigi? esclamò oh signore se mi piace Parigi è possibile fare una simile domanda e si mise a parlare di Parigi con tale ardore e con tale entusiasmo e frenesia che pensai ecco la corda che bisogna toccare la giovane donna adorava Parigi di lontano con una bramosia di ghiottone a digiuno con una passione esasperata di provinciale con un'impazienza di uccello in gabbia che tutto il giorno guarda un bosco dalla finestra dove essa è appesa cominciò a interrogarmi balbettando dall'ansia voleva sapere tutto, tutto in cinque minuti sapeva il nome delle persone di fama e di molti altri di cui io non avevo mai sentito parlare com'è Gounod? e Sardou? oh signore come mi piacciono le commedie di Sardou com'è allegro o spiritoso ogni volta che ne vedo una continuo a pensarci per otto giorni di seguito ho letto anche un libro di Duadé e mi è piaciuto tanto Saffo lo conoscete? è un bel giovane Duadé l'avete visto? e Solà com'è? se sapeste come mi ha fatto piangere Germinal ricordate il bimbo che muore senza luce che cosa terribile corsi il rischio di farmi una malattia questo non è da ridere per esempio ho letto anche il libro di Bourget Crudele Enigma ho una cugina che ha perso talmente la testa per quel trovanzo che ha scritto a Bourget per me questo è troppo poetico mi piacciono di più le cose allegre conoscete Graven e Damalà e Coquelin e Rochefort si dice che abbia tanto spirito e Cassagnac pare si batta ogni giorno di lì a un'ora circa le sue domande erano quasi esaurite e avendo io soddisfatto la sua curiosità nel modo più fantasioso potei parlarle a mia volta le raccontai storielle del gran mondo della società parigina dell'alta società lei ascoltava tutto orecchi con tutto il cuore oh certamente sarà dovuta fare una bella idea delle belle dame delle celebre dame di Parigi non erano che avventure galanti che appuntamenti che vittorie rapide e disfatte appassionate ogni tanto mi chiedeva oh è così la società elegante sorridevo maliziosamente perbacco soltanto le piccole borghesi conducono una vita piatta e monotona per rispettare la virtù una virtù di cui nessuno è loro grato e mi mise a distruggere la virtù a colpi di ironia a gran colpi di filosofia a gran colpi di frottole mi burlavo con disinvoltura di quelle poverette che si lasciano invecchiare senza aver conosciuto nulla di bello di dolce di tenero o di galante senza aver mai gustato il delizioso piacere dei baci segreti profondi ardenti e tutto questo perché hanno sposato un povero stupido marito la cui riservatezza coniugale le lascia arrivare sino alla morte nell'ignoranza della sensualità e di tutti i sentimenti raffinati raccontai poi altri aneddoti aneddoti da salottini riservati intrighi che affermavo essere conosciuti da tutto l'universo il ritornello era sempre l'elogio discreto velato dell'amore improvviso e segreto della sensazione rubata come un frutto passando e dimenticata appena provata calava la notte una notte calma e calda il bastimento scosso dal sussultare delle macchine scivolava sul mare sotto l'immensa volta del cielo violaceo costellato di stelle brillanti la piccola signora non diceva più nulla respirava lentamente e ogni tanto sospirava a un tratto salzò vado a letto disse buonasera signore e mi strinse la mano sapevo che la sera dopo doveva prendere la diligenza che va da bastia ad agiaccio attraverso i monti e che viaggiava tutta la notte risposi buonasera signora e a mia volta mi ritirai nella mia cabina fin dal mattino del giorno dopo accaparrà i tre posti della diligenza tutti e tre per me solo mentre salivo nella vecchia carrozza che avrebbe lasciato bastia al cadere della sera il vetturale mi domandò se non avrei ceduto un angolo ad una signora domandai bruscamente a quale signora alla moglie di un ufficiale che va ad agiaccio dice quella persona che le offro volentieri un posto lei arrivò dopo aver passato la giornata dormendo mi disse si scusò mi ringraziò e salì quella vettura era una specie di scatola ermeticamente chiusa e non riceveva luce che dai due finestrini eccoci dunque di fronte lì soli la dentro la carrozza andava al trotto di gran trotto poi si inoltrò tra i monti un odore fresco e acuto ad erbe aromatiche entrava dai vetri abbassati quell'odore penetrante che la corsica spande intorno a sé così forte che i marinai lo riconoscono anche stando a largo odore penetrante come il sentore di un corpo come un umore della terra verde impregnata di profumo che il sole ardente abbia sprigionato diffondendolo nel vento che passa io mi rimisi a parlare di Parigi e la signora ricominciò ad ascoltarmi con febbrile attenzione e nei racconti si facevano arditi astutamente scollacciati pieni di parole velate e perfide di quelle parole che accendono il sangue si era fatta notte piena non vedevo più niente neppure la macchia bianchia che poco prima scorgevo formata dal viso della mia compagna soltanto il fanale della carrozza illuminava i quattro cavalli che salivano al passo qualche volta ci ciungeva insieme al suono dei buboli il rumore di un torrente che scorreva tra le rocce e poi subito si perdeva in lontananza dietro di noi mi chiamanti dolcemente il piede e incontrai il suo che lei non ritirò allora non mi mossi più e improvvisamente cambiando argomento parlai con tenerezza affettuosamente avevo allungato la mano e avevo trovato la sua lei non la ritirò io parlavo sempre più vicino al suo orecchio vicinissimo alla sua bocca sentivo già il suo cuore battere sul mio petto certo batteva a precipizio buon segno allora lentamente posai le mie labbra sul suo collo sicuro ormai di averla talmente sicuro che avrei scommesso qualunque cosa ma ad un tratto lei si scosse come se si svegliasse con un movimento così brusco che andai ad urtare contro l'angolo della vettura poi prima che avessi potuto comprendere riflettere pensare ricevetti prima cinque o sei graffi spaventosi poi una grandine di pugni che mi colpirono duri e nocchiuti dappertutto senza che potessi pararli nell'oscurità profonda che avvolgeva quella lotta allungai le mani cercai ma in vano di afferrare le sue brazza poi non sapendo che fare mi voltai improvvisamente presentando al suo assalto furioso soltanto il dorso e nascondendo la testa nell'angolo della vettura lei parve comprendere al suono che facevano i colpi questa manovra disperata ed un tratto smise di colpirmi dopo qualche secondo la signora tornò nel suo angolo e si mise a singozzare forte perdutamente quel pianto durò almeno un'ora io m'ero seduto molto inquieto e vergognoso avrei voluto parlare ma che dirle non trovavo nulla scusarmi era stupido che avreste detto voi nulla di più via lei piangeva sempre ed emetteva ogni tanto profondi sospiri che mi commuovevano infinitamente avrei voluto consolarla abbrazzarla come s'abbrazzano i bambini addolorati domandarle perdono zettarmi ai suoi ginocchi ma non osavo sono così stupide e simili situazioni finalmente la mia compagna si calmò e restammo ognuno nel proprio angolo immobili e muti mentre la carrozza continuava il suo cammino fermandosi qualche volta per cambiare i cavalli in quei momenti chiudevamo in fretta gli occhi tutti e due per non doverci guardare quando nella carrozza entrava la viva luce d'un fanale di scuderia poi la diligenza ripartiva e l'aria profumata e saporita dei monti corsi ci accarezzava sempre le gote e le labbra e mi inebriava come un vino per bacco che bel viaggio se la mia compagna fosse stata meno sciocca ma lentamente la luce penetrava nella vettura una luce pallida di prima aurora guardai la mia vicina faceva finta di dormire il sole alzatosi dietro la montagna illuminò vivamente un golfo immenso tutto azzurro circondato da alti monti dalle cime di granito sulla riva del golfo una città bianca ancora in ombra si stendeva dinanzi a noi la mia vicina allora fece finta di svegliarsi aprì gli occhi erano arrossati aprì la bocca quasi per sbadigliare come se avesse dormito a lungo poi esitò arrossì e balbettò fra poco saremo arrivati sì signora fra un'ora appena guardando lontano rispose è molto faticoso passare una notte in vettura eh sì spezza le reni soprattutto dopo una traversata oh sì è a jaccio quello che si vede sì signora vorrei essere già arrivata capisco benissimo il timbro della voce era un po' turbato i suoi modi un po' impacciati il suo occhio mi sfuggiva tuttavia pareva che avesse dimenticato tutto l'ammiravo come sono scaltre distinto queste furbacchione che diplomatiche dopo un'ora circa arrivammo infatti e un altro dragone dalla corporatura Erculea in piedi in anza all'ufficio portuale agitò il fazzoletto scorgendo la vettura la mia vicina si gettò fra le sue braccia con slancio e lo baciò almeno venti volte ripetendo stai bene che desiderio avevo di vederti il mio baule fu calato dall'imperiale e mi stavo ritirando discretamente quando ella mi gridò dietro oh il signore ve ne andate senza salutarmi balbettai signora vi lascio alla vostra gioia allora ella disse al marito ringrazia il signore caro è stato gentile con me durante il viaggio mi ha perfino offerto un posto nella vettura che gli aveva noleggiata tutta per sé si è fortunati quando si incontrano compagni così gentili il marito mi strinse la mano ringraziandomi con convinzione la giovane signora sorrideva guardandoci io dovevo avere un'espressione molto stupida un'espressione che che mi 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 mi